Eh, Gallo, ma allora iniziano le scelle, ora? Eh, fra poi è il momento, è arrivato la sera, è arrivato la sopravvivente, ma che mi fai? Ma eh, o se arrivano invece del WWF? WWF arrivano, guarda, che segna? Che segna perché io spiego qui per vedere se gli uffero aveva ridi 10 anni fa, eccetera. Che mi faceste la multa 10 anni fa, alle 3 e mezza di notte, non sapete la storia, e mi toccarà pagarla, non lo so perché un c'ho nulla di marini, io ho 500 euro in pensione, e quindi io vengo su Arno a vedere per la sopravvivenza, e c'ho 10.000 euro da pagare, e quella vecchia, io vengo a posta per essere il riuppero o qualcosa, per darmi qualcosa anche a voi. Gattiva. Oimena. Ostroiai. Hanno inquinato tutto l'anno, le troiai. Hanno inquinato tutto a Martito, me ne ha trovato uno che è un pescatore poverino, da bimbetto, aveva un centurio, sopravvivenza di pesci, e poi me ne ha trovato uno al WWF, tutti, tutti incappucciati tutti i lustri e noi i poverini li ha fatto il piso senza andare in tasca. Cerno l'hanno inquinato tutto. L'hanno ammarcito tutto, hanno scariato Tannino, Veleni da tutte le parte e poi viene a trovare un piccolo operaio che è venuto a venire per la sopravvivenza. Gli fanno la multa per le scelte. La multa per le contrate, 10.000 euro mi è arrivata, segnate, segnate, tanti come rendano i soldi di lì. Quella lì è una bella banca. Ma non ve le beccate perché non c'ho nulla, cosa venite a rompere e cogliere? Uno non c'ha nulla. Qualca madonna. Un delinquente, un assassino, vengono a venire e si guadagno qualcosa, la sopravvivenza della pesca. Ma glielo dare l'olpa pescatori perché non c'è più leggera. Eh, vogliono dare l'olpa pescatori, ma è pescatori o quelli di qui ne buttano Tannino, Veleni? Per familiardi eh. Per familiardi. Troiai. Gli chiamola Troiai. Che tonda maiala. Eh, è forte vero.